buongiorno anzi buonasera perché in teoria questo video lo carico stasera sabato sera allora ci sono delle novità è un po che non vedete piccoli melin no forse l'avete vista no forse neanche lei però ho pubblicato diverse foto sul mio instagram che mi invito a seguire mi chiamo il contabile con l'h finale tutto attaccato allora è un periodo un po così quindi mi scuso se non vi ho più aggiornati gli piacciono le coccole a questi piccolini soprattutto quando gli accalizzo qui sotto no non sarà la tua mamma non c'ho la tetta io eh beh odio scusa piccolo no no adesso mi denunzieranno la novità è questa ragazzi adesso vediamo perché me ne sono accorto oggi guardate che gli si stanno aprendo gli occhi ecco messo a fuoco guardate si vede già l'occhio credo che ce l'abbia chiaro lei che poi io me la vorrei tanto tenere ragazzi però se decido di tenermelo è il caso che mi tengo quello che non vuole nessuno che poi ce ne sono due neri che sono non mi ricordo se sono maschi e femmine un attimo delicatamente lui c'ha il pisellino scuso amore scuso sì sì ma adesso lo stanno mangiando ragazzi poverino lui non stava attaccato però lei è una femminuccia perché me lo ricordo e a lei piacciono le coccole proprio come la mamma è una mamma eh sì oddio no ragazzi guardate e lei lo sa che non so la mamma però perché ci vi un pochino ci vede penso che abbia gli occhi della mamma lei eh piccolina beh ragazzi che dire sono uno spettacolo per me sono tutti bellissimi sto cercando di capire se a lui o lei si sono aperti gli occhietti no ancora no ma lei è la più forte perché lei è la prima che è uscita ma guardate quanto quanto è bella vuole le coccole vuole le coccoline no bella non calcolate che non sono mai riuscito a riprenderli quando si picchiano quando si picchiano fanno troppo ride eh sì lei proprio si stiracchia scusate ragazzi non è solo perché la mia preferita ma è perché è la più coccolosa in questo momento gli altri proprio gli altri stanno mangiando quindi lasciamoli stare aspettate che mi siedo perché stanno facendo male le gambe merlin ha iniziato ad andare in giro quindi a lasciare i cuccioletti qui purtroppo devo tenere la porta chiusa perché billy viene a mangiare l'umido di merlin disgraziato ah e poi a proposito volevo adesso un piccolo spazio non è pubblicità ma è semplicemente un ringraziamento di un regalo che mi è stato fatto dalla lista amazon che è questo tappetino che io non ho ben capito a che serve secondo me è per far fare bisogna i cuccioli cani di cani però cioè alla fine gattini hanno la lettiera comunque io le che me l'ha regalato giustamente non lo sapeva perché io l'avevo messo nella lista ma non lo sapevo neanch'io e lo utilizzo così comunque molto utile soprattutto perché merlin sporca tanto è una gattina che sporca anche se c'è da dire che l'antibiotico ha fatto effetto non star mutisce più non perde più muco adesso sta allattando vi volevo far vedere che bel pelo ma già da qui si vede che l'è avvenuto bello lucido liscio ne perde ancora un po però beh stressata ci sta anche perché il periodo della perdita dei peli penso che sia finito non dura tutta l'estate io ricordo che dura almeno per i cani non so se per i ragazzi è diverso ricordo che i cani anche in primavera fanno la muta e poi dopo un'estate basta sì amore mi cerca già mi cerca già la mia piccola acquerella boh non lo so come la chiamerò delle idee ce le ho se me la tengo come la che però non lo so no lascia stare che ti fai male lascia sta oddio stanno litigando o si stanno a fare le coccole che stanno a fa no oddio che tenerezza no vabbè raga ecco lì stanno a fare i bacini che stanno a fare sono dolcissimi davvero mamma merito guarda se sono realmente così questo sarebbe un buon smr però dovrei stare a riprendere lo potrei fare con il selfie stick che lo posso muovere comunque sono una meraviglia e loro si abbracciano secondo me gli occhi della mamma lei lo sape lo scopriremo molto 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 presto ragazzi io direi che questo video può finire anche qui anche perché sono stanco da riposare anche perché poi lo devo editare prima e poi mi riposo un pochino quindi questi sono gli aggiornamenti martedì mattina esco da circa le 8 da casa e perché lunedì non posso farlo martedì e quando esco di casa per andare al lavoro lascio la cam aperta in live su merlin e i gattini che lascerò qui in camera perché sennò billy si mangia la pappa non vedo l'ora che merlin ricomincia a sali sul coso per mangiare lì sopra così sto tranquillo ma saranno loro il problema secondo me loro saranno più della mamma ragazzi niente grazie per aver seguito questo video fino alla fine a martedì con loro e con me a presto molto presto perché comunque sto facendo live video e quant'altro e vi invito a seguirmi in entrambi i canali sia questo che è il contabile live sia sull'altro che si chiama ancora la mano la vip tutto attaccato dove sto quasissimo a 9000 iscritti ma chiaramente pochissimissimi in questo momento poi cambierò il nome a quel canale adesso non posso farlo perché non sono passati tre mesi dall'ultima volta che l'ho fatto e lo chiamerò il contabile quindi sarà il canale principale quello un bacione ragazzi grazie di tutto veramente per le donazioni per i regali per il sostegno per i consigli grazie veramente di tutto un bacione grazie mille Il come raby ne, il come raby Il come, il come raby ne Il come, il come raby ne